ATTENZIONE WARNING Questo è un gioco molto spaventoso e potreste davvero cadere dalla sedia e dalla paura This game can be a caccapisha soto for you Hey hey ragazzi Qui C01 E oggi Vi propongo di Vedere questo video In cui Giocherò a Slender The 8 Pages E' un gioco a Tema horror Ehm Perchè non lo conoscesse C'è una specie di Uomo Con la faccia bianca Bene, detto questo Iniziamo Perchè C'è una specie C'è una grazia E noi dovremo andare in giro per questa foresta A raccogliere otto pagine come dice Come dice la scritta E cavoli c'ha un'ambientazione che mette i brividi in una maniera Anche un recinto Penso che sia lì la prima pagina comunque Oh sì infatti eccola Leave me alone Lasciami solo Oh oh Mi senti testito amore Allora In situazioni come queste C'è solo una cosa da fare Ok cantiamo una canzone eh Che ne dite? Allora Let's get together in Feel alright Let's get together in Feel alright Let's get together in Let's get together in Let's get together in Let's get together in Oh che è quello? Oh dai cantiamo cantiamo Allora Allora Dimmi ti adessersi più nebbia No 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 Oh dio Oh Nera la sveglia mi son preso un colpo Andiamo lenti come delle Cato Cosa sono queste interferenze Oh no Non mi piace affatto Oh no Penso se Via È vicino ragazzi È vicinissimo No Vedo una casa Oh Dai canchiamo una canzucina Allora Let's get together Feel alright Oh vedete che se ne va Quando canto Forse perché sono stonato Corriamo alla velocità della luce per fare il giro di staccato Si poi alla velocità della luce Del ciminiere Ecco vi voglio Far notare una cosa Cavoli che non sia Guardate qui Nonostante che ci sia una figura Eh 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 Oh anche qui Sono delle figure sataniche Messaggi subliminali per far più ancora più paura Maledizione Dove sono queste interferenze Ok si gioca a nascondino eh Ecco una pagina Comunque in questo gioco più pagine prendi Più il gioco diventa difficile Ecco vedete quello meno disegnato È quello che ci sta inseguendo Eh però è da tanto che non li incontro eh Ancora non mi ha fatto prendere Non mi ha fatto prendere un conto Ma Ma Sapete che Quando mi prende all'improvviso È Una roba Fa una paura Per me Quindi direi di andare adesso verso la casa Tanto che guardiamo queste figure Satanico Massoniche Corri Palla di lardo Dai che ci siamo Secondo me fa ancora più paura nel caso eh Che non sai mai chi ti può aspettare dietro l'angolo Tanto ragazzi Non so se vuoi Maura eh Aiutami Oh Ho sentito questo rumore Mi sa che non ce l'ho mai arrivato a tre pagine Non mi ricordano questo rumore Oddio Nooo Devo uscire subito di qui Devo uscire Ok Ah Settete L'uscita Ragazzi È da troppo tempo che non lo incontro Perciò mi ruona male Suona male Troppe interferenze Troppe Oh Oh Porca puttana No 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 Fa troppo paura Beh ragazzi Mi sono preso un colpo di quelli Ho anche spento la torcia Porca puttana Ma Vaffan Tu parmi Merda Cazzo È vicino È vicino ragazzi No io smetto di giocare Basta 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 Non ne posso più Stare anche finendo il tempo per il video Oh è lì Curiamo Merda Merda Non ne posso più Tra l'altro sta palla di lardo che comando io Non corre niente Dai Non andare più veloce Ecco Siamo prescita di stancato Dov'è? Facciamo un po' di zoom Non lo vedo Oddio mio Dai Raga Mancano pochi secondi alla fine del video Quindi Ok Con questo spavento finale E ci vediamo alla prossima